Più che una porta chiusa, quella del Movimento 5 Stelle verso il Partito Democratico sembra ormai un vero e proprio muro. Beppe Grillo dal suo blog attacca tutto quello che potrebbe sembrare un esempio di dialogo, a cominciare dai presidenti di Camera e Senato e dal cosiddetto modello Sicilia. Il leader del Movimento sul suo blog rilancia le parole di Giancarlo Cancelleri, capogruppo dell'Assemblea siciliana e portavoce del Movimento 5 Stelle nell'isola, che replicando le critiche mosse da Franco Battiato alla linea del non-dialogo, mette in chiaro che il modello Sicilia non esiste, o meglio, il modello Sicilia siamo noi 5 Stelle, pronti a mandare a casa il governatore Crocetta e lo stesso Battiato. Dunque, se la Sicilia, dove il PD governa grazie all'appoggio 5 Stelle, non è un modello replicabile, nel timore che qualche crepa possa ripetersi in Parlamento in occasione della fiducia a Bersani, il capo politico parte con una controoffensiva anticipata, attacca Boldrini, Grasso, foglie di fico dei partiti ed espressione della partitocrazia e i dissidenti che scrivono sui blog. Pagati ad arte sostiene lui per avvalorare la tesi di un'unità di intenti che perde colpi, prezzolati che però da oggi potranno essere segnalati perché violano le regole, quelle del blog. Una lotta senza quartiere in cui a salvarsi è Giorgio Napolitano, in un commento benevolo dello stesso Grillo in uscita dal Quirinale. Sì, sì, lui mi è piaciuto un po'. No, noi dobbiamo trovare un altro e non chiamarlo più Morfeo. Parole certo non istituzionali, ma difficili da relegare nella categoria dei fuori onda involontari. Dalla Paoletti, SkyTG24